Il rock è morto nel 1969? Per qualcuno sì, per qualcuno no. Lo scopriremo al Quirinetta con 969 The Beginning Starts From The End, in cui ogni mese con i resident Andrea Esu e Tatiana Non-DJ Selecta, i migliori DJ della scena romana, si cimenteranno con il rock in ogni sua declinazione. Tutto insieme a live con grandi ospiti italiani e internazionali. Primo appuntamento il 25 novembre con guest Nicola Casalino. Con 969, format targato Vite Culture e Radio Rock, il clubbing abbandona il legame classico della struttura ritmica della cassa in quattro e abbraccia l'energia del rock. Tutti i DJ hanno una storia musicale e a ben scavare molti DJ hanno un passato nel rock. Una storia che verrà raccontata grazie alla serata 969 al Quirinetta ogni mese a partire dal 25 novembre.